Giuse, stasera mi hai fregato. Te e professore. Ma diciamocelo perché non c'era nessun altro. Non c'era nessun altro. Sennò non avremmo. Chi lo vuole voi, scusi. Tu vuoi fare un collezionista nuovo. Esatto. E chi meglio di Pietro? Ma è un collezionista? E buono, un collezionista non è. No, appassionato. Appassionato, appassionato. Non dico da queste parti un passionista. Un passionista. Non padre passionista, ma passionista. Un collezionista in realtà che vuole a basso. Sì, un collezionista che vuole a basso. Ma che comunque c'è anche... Qualche oggetto ce l'ha. Insomma... Beh, vi dico due cose. La prima... Primo d'orologio. Primo d'orologio... Sì, però non ti puoi fare domande da solo. Che ci fai stasera? No, perché ci pensavo come a me è nata la passione. La passione, secondo me, non è che... Ce l'hai. Ce l'hai. Ce l'hai e... Te la sei trovata. Bravo. Poi dopo amicizie ti aiutano, perché è chiaro se tutti si parla della stessa roba... No, ma lui... Ah. Lui è arrivato dopo, eh. Lui prima dentro... Sei piccolo... Io ho iniziato che il primo d'orologino che avevo me lo regalò al mio babbo. 10 anni avevo. Quindi siamo nel 1985. E ci tenevo, eh. L'orologino ganzetto e bellino. E però non è che è quello che mi ha fatto scattare... Ma il classico d'orologino che ci regala... Sì, ho un bingettino, hai visto? 10 anni, sì, comunione, ma nulla di... Tantacicca era appena uscito il Swatch. Il primo Swatch mi sembra sia così... No, ma io comunque... Ma ancora un'era di moda, eh? Io fai conto che il Swatch ebby... C'aveva una cometa dentro che... Ah, sì. Con la scia... Lo ricordo sempre... Era verde, con il quale dante nero... Sì, 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 sì. Ma io quel boom-lip, per esempio, non me lo potevo permettere. Cioè io ce n'avevo uno, quello era... Ma se te lo ricordi quel boom-lip? Sì. Ti ricordi nel 90, 88, 89? Ti devi sapere che... C'era un ragazzo di classe mia... Eravamo alle superiori... Che... L'arrestarono. Perché lui... E li vendeva? Lui andò in Svizzera e comprò... Ma cinque orologi? Sì. Sei, sette... E iniziò a venderli. E poi... Non so come... Non mi ricordo che combinazione c'era. Trovò la strada. Trovò la strada. Uno, due, uno, due... Alla fine... Non è che l'arrestarono fra... Galera. Lo richiamarono. No, li sequestarono... Li andavano a casa... Li sequestarono alla casa... Li portarono via... Cinque, sei, otto, dieci orologi... E lo portarono una giornatina... Raggiù... Nella stanzetta. Sì, sì, sì... Ci andò al suo babbo. Ci andò al suo babbo. Ci andò al suo babbo. Non pensavo neanche... Sì, sì, sì... Ma li divendeva... Per dire... Io non lo so a quanto... Ma non ti dico al doppio... Perché non so neanche... Era 50.000 lire... Ma ridò perché... A quei tempi lì... La gente vendiva i topolini... I ragazzini vendivano i topolini vecchi... Cioè i topolini di... Un anno e prima... Due anni prima... Li mettevano magari... C'era una specie di... Brancarellino a tavolino... E vendevano i topolini... Nessuno ne ha mai detto niente... E sui suocci invece li hanno detto... Sì, sì... Lo fanno ancora qualcosa di diverso... Io me lo ricordo... Certo... Tipo poi le scarpe... Ma... Le scarpe a X... Le rivendono a 3X o 2X... Sì, nel senso... Ma io questa cosa io me la ricordo... Perché eravamo... O prima o seconda superiore... E insomma... Era... Immagini... Uno che lo va... Da bigneri a casa e lo portano... Cioè... E lui che lo raccontava... Insomma... Certo... E ha smesso... Ha smesso... Ha smesso... Me lo ricordo... Guarda che stava salendo... Mi ha allevato la passione degli orologi... Non lo so se... No... E comunque anche lui... E ora è fotografo... Passione per la fotografia... Perché gente come noi... Alla fine la passione la deve trovare... Secondo me... Chi ha d'indole... Chi le macchine... Chi gli orologi... Chi la fotografia... Chi ce l'ha d'indole ce l'ha... Certo... Certamente... Ne ha più di una... Sì... Sì... Gira anche... È bene... È vero... E quindi... Niente... Piano piano mi sono avvicinato... Da lì... Da lì... Il mio primo orologio... Lo faccio vedere... Perché... Sono andato a ricercarlo... E... Quando gliel'ho fatto adesso... E' messa a dire... Perché... L'aveva conosciuto già... Questo qui... Viene... Da San Francisco... Il mio babbo... Il mio 1885... Avevo dieci anni... È... Però è bellissimo... Eh... Guarda che... È questo qui... Molto bene... È brutto eh... È famoso eh... Come modello... Cos'è un? È Lingertzoll... Che non conosco... Marca americana... Di orologi... Anche dell'esercito... Americano... Allora... Quando ci fu la prima guerra mondiale... Alcuni militari americani... Vennero anche... Qua in Europa... Per la prima guerra mondiale... Avevano al polso Lingertzoll... Quindi era una marca... Praticamente usa e getta... Addirittura avevano fatto... Dei modelli di orologio... Che... Come dire... Avevano una durata... Talmente limitata... Che il tempo di una guerra... E poi li potevi buttare via... Perché non c'era rubini... Non c'era niente... Questa è un po' di quella fattura... E' durata... No... E' durata... Non ha mai funzionato preciso... Ah ok... Quindi... Sì... Ma a me m'ha durato... Mmm... Un tempo limitato... Perché poi mi vergognavo... Cioè... Bellino Bellino a dieci anni... Certo... E poi dopo dopo... Un orologio... Da piccoli... Allora... Capito... A quel punto lì... Hai 14 anni... Poi andando in giro... Con l'oggetopolino... E presi lo swatch... Quello lì... Della cometa... E quello me lo ricordo... Benissimo... E' interessarsi tanto... Sì... E' anche più robusto... Sì... Non dovevi caricarlo... Come questo... Ti devo dire una cosa... La verità estrema... E' che stasera ho fatto per prenderlo... Che lo tenevo lì... Mi sentito da un caso... Mi sentito da un caso... Mi sentito da un caso... Fa quell'effetto... Mi sentito da un caso... Mi sentito da un caso... Ci sono rimasto malissimo... Mai preso in mano... Lo vado a prendere... Croc... Tac... Ma come ci sono i ricambi... Quelli si trovano... Un po' i ricambi... Trovi gli standard... Un colore... Due colori... Io ho degli swatch... Che aveva tipo mio nonno... Sì... E la parte... Quella del finale... E' spezzata... Si spezza... Cioè non c'ho più... La parte del bracciale... Ma c'ho... E quindi... Arrivo a casa... E... Ero contento... Questo orologino... Che poi alla fine... Da bimbi... Se ci pensi... No... Nulla di che... Andava... Tranquillo... Non so più neanche se va... No... Mi sembra che... Una piccola revisione... E... E quindi... Ero proprio soddisfatto... Di questo orologio... Non è... Sinceramente... Quello che mi ha fatto appassionare... Quello che mi ha fatto appassionare... E' questo qui... Quello lì... Quindi il secondo... Il terzo... Ma il terzo... Perché io ho avuto questo... Noose watch... E poi a 18 anni... Il mio nonno mi dava lo... Comunque abbiamo già detto... Questo orologio... Cioè questo tipo di orologio... E' quello che anche... Nel film della trilogia... Di Dan Brown... Dei film... Del professor Langdon... Lui è molto orgoglioso... Di portare al polso... Questo tipo di orologio... Ah si... Ti dirò... Io non indosserei... Non sempre... Però... La forma a me piace... Tantissimo... E' diversa come situazione... Ora... Anch'io... Ma... A 14 anni... E' verità di mezzo... Certo... Il dobolino... Non ce lo mette al polso... Certo... Alcuni di questi qui... Si vedono pubblicati... Negli anni 30... Diciamo... Con un cinturino di metallo... Che partiva come cinturino... Qui c'aveva un'altra figurina... Tipo metti paperino... Di qua e di là... E poi proseguiva con la chiusurina... D'arciare... Carino... Quello è molto carino... Io quello lì... Onestamente non l'avevi visto... Ma... Quel tipo di braccia... Ma questo lo producevano in America... Si... Cioè questo non si trovava qua... No... Quegli anni lì... Anni 30... Non lo trovavi qua... Ah... Negli anni 30... Non un orologio... Dell'epoca in cui è andato in America... Ovvero... No... Lui ha vissuto polino... Lui ha vissuto polino... Un negozio di antico aliato... Di quelli... Diciamo di... Non è costoso... Di gattiere... No... No... Un cartone... Una volta... Un libro... Bellissima... La scatolina è eccezionale... Però se ne sono conservate poche... Perché... Andava a mano ai bambini... Eh... Sul Prince... Sul Prince... Sul Prince... Sul Prince... Il Prince di che anno è? Nasce nel 29... Ed è in moda... Tutti gli anni 30... Comunque questo è pieno... Comunque... Pieno anni 30 proprio... Quindi... Un po' dopo l'Art Deco... Ah ok... Il Deco... Diciamo... Finisce quasi all'inizio... Non fatti... Una quantità... Ne hanno fatti tanti... Ne hanno fatti tanti... Che poi dopo il primo personaggio fu... Topolino... Ma poi l'allargarono a Paperino... A Paperone... Eccetera eccetera... Ma il più di tutto è proprio Topolino... Che infatti... Abbiamo già anche detto... Questa tipologia qui di Paperino... Di Topolino... È la prima... E si riconosce perché ha... La coda più lunga... E il musino... È tutto fatto di puntini... È rosa con tutti i puntini... Invece nei successivi... Non hai punti... Non hai punti... Tanto che... Sa anche questo... No... Perché questo è... Cioè... Ti fa riconoscere l'epoca del loro rodo... Cioè la prima serie è questa qui... Poi le seconde serie... Le terze serie sono... L'evoluzione era in base alla figura di Topolino... Quindi era successiva... Ho capito... Già comunque mi stupisci... Perché abbiamo messo questo a posto... Dato che è della Rolex... Perché abbiamo pensato che portasse tutti i Rolex... Invece dai... Almeno... Almeno uno... Non so quante gente porterà... Non so quante gente porterà... Non so... Chissà quanti ne li porteranno altri di Ingersoll... Io credo nessuno... Cioè... L'unico che ho visto è questo... Sì... Io... Qualcun altro visto... Però è il mio primo orologio... C'è una storia sua... È la mia storia... Sì... Che poi alla fine è quella... Cioè non è il fatto che sia della Rolex... No... Poi insomma... Era il mio babbo... Cioè insomma... E poi mi ricordo... In questa rubrica qua... Ne facciamo vedere orologi... Che sono legate a una storia personale... Esatto... È la mia... È la mia... Non c'è nulla con il valore degli orologi... O col modello in particolare... Gli orologi non hanno... Non hanno valore... Tanto le succede sui ne compri... A parte lui... Lo fa di lavoro per rivendere... Quindi... No... Poi c'è stato questo... Che a 18 anni... Mi hanno regalato il GMT... Il mio nonno... Mi regalò il GMT... Ti l'ho regalato o era il suo? No no... Ah... Ho comprato... Ho comprato qua... O... O... A Lucca comunque... Sì sì sì... Credo che lo comprò da concessionario... Da concessionario... Sì sì sì... E quindi... È forse l'unico orologio che non l'ho preso da te... Sì... Anche perché lo comprò il tuo nonno... Quindi io il tuo nonno non l'ho conosciuto... Ah... E quindi... Mi conosciò la tua mamma senz'altro bene... Ma non il tuo nonno... E quindi... È quello che... Alla fine... L'orologio è un portante... E iniziai a leggere qualcosina... Che mi portò sulla strada degli orologi... Meccanica... Insomma... Mi piacque un po' la... La situazione... Ma non è che da lì... Mi buttai a capofitto... Perché non era... Questa è la versione come l'ha comprato... Perché poi hai visto come lo portavo... Sì io lo porto senza ghiera... Con il caociu... Ma questo l'ho già fatto vedere... È sempre quello... L'orologio è sempre quello ma... L'abbiamo riportato un minuto fa... Ma poi si smona... Perché loro sono noiosi... Scusatelo se sono noiosi... Io lo rimonterò senza... Vabbè... E questo qui c'ha una storia... C'ha una storia che... A parte ha 27 anni... E... Tombo dai... Quanto te? Magari... Più di te... Diciamo così... A meno di me e più di te... E con lui c'ho condiviso... E c'ho condiviso... Con lui c'ho condiviso... Una brutta cosa della mia vita... Che ho fatto un incidente stradale... E quando io... Mi risvegliai... L'orologio era distrutto... Se lo ricordi... Sì sì... Mi ricordo bene... Mi ha distrutto... E... Con calma venni qua... E Giuseppe... Deveva avere ancora le foto... Io da quello lì... Ci mise del suo... Perché... Sì... Si fece un preventivo... Perché era... Condizioni che... Sì... A vedere non davano... Una grande affidabilità... Ma anche lui era messo male... Sì... E poi ci hai messo peggio... Devo dire che io mi preoccupavo molto più di lui... Che dell'orologio... Sì... Secondo me... Si ricompra... Ma lui no... Lo ricompro... Quindi... E insomma... Via dai... E questo infatti... Con lui mi accomuna... Che si è aggiustato lui... Mi sono aggiustato anch'io... E si sta insieme... E si va avanti... Invece... Questo è l'orologio che indossi di più... Cioè ti vedo sempre complesso... Questo è il mio ologio... È il mio ologio... Ma anche perché... A parte tutto... Non ne ho molti... Ma è quello a cui sono affezionato... È il mio ologio di una vita... Sì... Si è fatto tutto anzi... Sì... Quando va in giro... Magari un viaggio... Cosa del genere... Con il GMT... Quindi... Sono abbastanza... E' un ologio trasversale... Che non dà tanto nell'occhio... Ma comunque... È un bello orologio... Un impegnabile... Se vai in mare... Lo puoi usare... A me piace poco il mare... Però... Magari ci vado... E quindi... Ci vai solo quanto... Una volta al giorno... A surfare... Sì... Su peggio... Però sinceramente... Quando non surfa... Va a vedere se il mare... È per surfare o no... Quindi intanto lo vedi... Poi torna indietro... Sì... Comunque... Dai... È l'orologio che ha più... Il mio cuore è qui dentro... Diciamo... Sinceramente... Sì... Io devo dire che se... Penso a te... È un orologio... 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 Sì... 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 Non tu mi hai visto con questo... Non tu mi hai visto con il swatch... Sì... 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 E neanche quei prossimi... Io... Per lo meno io... No... 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 Questo però... Ha una storia... Gazzetta... Ora... Lo faccio vedere... Che ci tira fuori... Questo è strano per me... Allora... Dovete sapere che il mio babbo aveva una pensioncina a Fortelemana e lui lo sa del nome... E in questa pensioncina era un posto un po' di ritrovo... In famiglia, cioè tutti in famiglia, come se fossero in famiglia... Sì... La cosa simpatica era che si andava a quindicine, no? Quindi la camera dell'albergo era non il numero ma il nome del cliente... Per quindicine intendi che per quei giorni di la camera era la prima quindicina al Carli... E c'avevano ogni anno la stessa camera 3... E te sapevi che nell'arco di un mese vedevi il Carli, poi vedevi Steve e così via... E la sera, anni fine 80, primi 90, quindi pochissima televisione, poi d'estate, a meno che ci fossero mondiali, infatti... Ce n'era di... Non c'era in... L'estate poi a fortuna mi stai bene fuori... Sì... Cioè da questo giardino è... E il mio babbo aveva allestito un vassoio di distillati... Di un po' tutti i generi, ecco... E la sera arrivava lui e sapeva che gli piaceva magari un room... Gli vivavano un goccino e stavano un po' a chiacchere... Cioè... Fa salotto... E fra questi c'era un signore... Che però non era proprio partecipo alla discussione... Lui stavano disparte... Però c'era vigile... Cioè non era di quelli... Era uno di quelli che veniva ogni anno... Veniva ogni anno... Però mi piaceva il sigaro... Tra l'altro... E manca il mio babbo... E fumavano sto sigaro... Il todore... Che amoreoso... E lo credo... E... E... E chiacchieravano... A volte di tutto... Cioè... Era bellino... Perché poi c'era... Una signora che si occupava di parmigiano reggiano... Per dirti... Penso un po'... E... Sì... E poi... Ma ce n'era... C'era un signore che lavorava nelle acciaierie... Cioè... Era bellino... Era una combriccola di... Il petto di gente che non si vedeva una volta l'anno... E quindi ognuno poi parlava dei propri argomenti... Sì... Ma poi da vedere che si vedeva una volta l'anno... E la quindicina era la solita... Quindi... Era... Un signore di scicchiava... Sì... La fine sì... E quindi... Va... Una sera... Questo... Signore qua... Si scopre... Mi va... La morata... A Lugano... Eh... Però io ero sempre piccolino... Quindi fa... Gli ho chiesto... Quindici anni... Sì... Ero feconto... Fino agli anni Ottanta... Quindi sì... Quindici anni... Sì... Una quindicina da anni... E... 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 Gli ho chiesto un orologio... Ah... E io... E che l'ologio l'hai chiesto... E forse mi avrà anche detto... Ma io... Non me lo ricordo... Il Daytona... Va beh... E lì finisce... Passa un po' di tempo... Ora io non mi ricordo se è passato... Tre... Quattro mesi... Cinque mesi... Quanto è passato... E questo signore lo chiamò... E gli dice che... E c'era... E c'era rimasciuto... E c'era rivolta... Cioè... Perché chiaramente... Rigorosamente... Il viaggio era... Il sommonino era così... Era così... E... Non ci si fermava... Mai uscivi... Aprivi usciva la nuvola... Certo... E si andò... A questo negozio... Dove... A parte... E' bello... Spettacolare... Bello eh... Era già... Credo... Spettacolare... Per quel tempo... Non so se andò di farci... No ma i negozi di Booker... E poi sono sempre rimasti più o meno uguali... Alcuni sono a due piani... Alcuni un piano solo... Possiamo che sia a due piani... Anche quello di Lugano... Io Lugano... L'ho sempre frequentato poco... Perché era un po'... Terreno di conquista dei Lombardi... Più che altro dei Milanesi... Che erano poi... Quelli che... 40 km erano di là... Quindi... Se devono ordinare un'oro... Lo ordinavano a Lugano... Perfetto... Infatti era impossibile... Partire dall'Italia... Per noi toscani... Andare a Lugano... Noi andavamo in lontano... Noi andavamo in lontano... Noi andavamo in lontano... Andavamo in lontano... Andavamo in lontano... Andavamo in lontano... A San Gallo... Per dire... Zurigo... Piuttosto che... L'Elicestein... A Coira... Di là dal San Bernardino... Quindi... In una zona che fosse più lontana... Allora gli italiani arrivavano meno... Quindi ci è arrivato? E arrivamo lì... E lui... Tra l'altro... Svizzero... Cioè... Torluquito... Il giusto... Proprio... Cioè... Non è che si fece proprio... 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 No... 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 Assolutamente... Molto serio... Entrammo... Io... Non so neanche il prezzo... Però... C'è una garanzia a suo nome... Il listino a quel tempo... Non so... Era pagato intorno... Il live italiano che era intorno ai 3 milioni... Magari 400 mila... Una cifra comunque sempre... Abbordabilissima... Sì... Il listino dell'epoca che era... Sono molto buono... Sì... E sì che... Arrivò a casa a lui... Che io... Non... L'ho mai preso in considerazione... Non me lo sono quasi mai messo... Proprio perché non era il mio odologio... Quindi non... Non lo potevo mettere... Lo seneva sempre... Quindi... Ha portato tanto... Sì... E ora c'hai da dirci che... Quindi praticamente... Ti è toccato il modello... Floating... Con la scritta Cosmo Rav staccata... Di era 200... Prima serie quindi... E il 6 rovesciato... Le è andata molto bene... Il modello sicuramente migliore... Perché... Dopo il Patrizio... Dopo il Patrizio... E quello sicuramente che ha oggi... Ha avuto più di valutazione... E quindi niente... E poi dopo... Purtroppo... Non c'è più... Da qualche anno... E... Te l'ha lasciata... Sì... C'è... E' lì... Quindi è un bel ricordo... E... La storia è simpatica... No... Il più caso... 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 Poi lui ha chiesto altro... Di orologio... Non se mi tornava male... È tornato... È continuata a venire... Sì... 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 E ti devo dire la verità... Non ha più... Neanche lui... Ce n'è più neanche... Il discorso... Non è più proposto... No... E' l'unico che aveva dato il top di campo... Sì... Poi è già richiesta all'epoca... Nel senso... Poi all'epoca non è che ce n'erano tanti richiesti... L'introvabile era questo... Sì... Tutti gli altri più o meno li trovavano... Sì... Più o meno... Poi in Italia... Sì... C'era un po' di sovrapprezzo... Sui submarine... GMT... Explorer... Neanche tanto... Ma roba di... 400 mila lire... Dell'epoca... Quindi poca roba... No... E questo che sì... Lui era... Fu una brava persona... E... Non so neanche... E' sicuramente l'entrata... Diciamo... Un po' di amici... Un amici... Si ci chiacchieravamo a 15 giorni... Poi dopo... Poi dopo... Poi dopo... Poi dopo... Poi dopo... Poi da vedere che il mio papo parlava sia al tedesco che il francese... Anche lui... E qui si trovavano mai... Si trovava la chiacchierata... La scienza... Svizzero... Credo che non aveva problemi... No... No... Chiacchieravano... Sì... Sì... Comunque ci pensi che la maggior parte... Cioè... Io ricordo di tutto il orologio che ho acquistato... Cioè... Non ne ho acquistati tanti... Ma credo che... Come... Non ne ho acquistati... Non ne ho acquistati... Si ricorda... Il giorno che ho acquistato l'orologio... In realtà le passioni si distribuono tutto il resto della vita per quello... Sì... Perché delle passioni ti ricordi tutto... Perché già la passione è già anche andarlo a comprare l'orologio... Non è solo averlo e possederlo... È anche andarlo a comprarlo... Quindi... Poi è quello... È quello... Capito... L'attesa... Come diceva anche Piero Coccini... L'attesa... Saperli poterlo trovare... Vado su... Ma sarà... Ma... E poi... A me mi sta succedendo anche una cosa molto particolare... Devete sapere che io... Questo orologio qui... Ho deciso di regalare al mio figlio... Luigi... Sì... Perché... È il mio orologio che... Mi piacerebbe che... E non so quando regalarglielo... Quale sarà il momento giusto... Capito... A... 15 anni... A 18 anni... A 20 anni... 18 anni... Eh... Capito... Penso anche io a 18 anni... Perché l'ho avuto io a 18 anni... Sì a 18 anni... Perché... Perché secondo me è un simbolo... Cioè è bello... Nel senso che... Viene tramandato da padre e figlio... Bravo... E questa cosa qui... Di non comprarglielo nuovo... Ma di comprarglielo... Cioè di donargli il mio... Secondo me... È da collezionista... Negli anni 70... È la pubblicità di Patek Philippe... Sì... Sì... Tutti i giornali quotidiani... Specialmente... Solo le 24 ore... Sempre... Tutti i giorni c'era... La pubblicità... Che Patek Philippe... Non si possiede... Non si possiede... Si tramanda... Si tramanda... Sì... E c'era il padre che lo donava... E questo qui è... Ora tra mandi liste d'attesa... È super giusto... Solo sul Nautilus... Però... Nautilus è la quana... No no... Questo è che quando è nato... Perché Eleonora... Gli aveva fatto il regalo appena è nata... Grazie a Beppe... Invece Luigi non glielo feci per... Eleonora è l'altra figlia... Sì... È la figlia... È la mia bimba... Invece a Luigi... L'ho deciso... Quasi subito... Che questo... A 18 anni... Insomma... Poi... Credo a 18 anni di darglielo... Quando li farà a 18 anni? È del 14... Quindi... Nel 32... Nel 32... È manca 12 anni... Eh... Non so... Vabbè... E Giorgino cresce... Sì... Sì... Il miraggio è arrivare al GMT... Eh... Esatto... E va bene... E invece la tua figliola dicevi? La mia figliola è un bellina la storia... Perché te devi sapere che... Nel... Lo prendiamo tanto... O pesca come me... Ma il piglio... L'ho insegnato lui... Nel 2011... Noi... Con la mia moglie... D'estate... Abbiamo fatto 15 giorni in vacanza... E siamo andati in Canada... Lui la sa... Te l'ha d'accordo a te... Siamo andati in Canada... Vacanza molto carina... Bellina... Ma... Divertente... Quando si rientra... Da questa vacanza... Dopo... Ma dopo la settimana... Ma tu sai che... Aspetta... Inciso... Ti non te lo ricordi? Io sì... C'eravamo visti in aeroporto... Nel 2011... Perché stavo partendo anch'io con i miei... Per andare negli Stati Uniti... Che ti chiamarono... Mi ricordo... Dal... Dal... Dal microfono... Sì... È vero... Mi chiamarono dal microfono... Ma quello io lo sai perché? No... Perché lì fu canzista... È proprio la vacanza perfetta... È vero davvero? Sì... Io non lo sapevo ma guarda... Cioè era palese... C'era un overbooking... In... In... In classe turistica... E ci disse... Siccome siete il bonino... Crime dell'alfabeto... La scelta è quella... Facciamo volare in business... E si fece pizza... C'è una pizza... New York... È lo stesso volo... Sì sì sì... Pizza New York... Ma davvero? Anch'io pizza New York... Pizza New York e poi... Lo stesso... Lo stesso giorno... Lo stesso giorno... Lo stesso giorno... Ma io me lo ricordo che c'hai... Di telefiguere... Eh no... Non so... Ti ho detto babbo... Io ero come poi a mia mamma... No mi ricordo... Non vi siete visti poi con lui? No perché noi eravamo in classe turistica... No quindi non neanche dopo un aeroporto... No perché noi qua da New York siamo andati subito a Las Vegas... No perché siamo qui... No noi siamo in Canada... Eh... No andammo a... A Vancouver... Una scoprola... Ah proprio l'altra... A Vancouver... Anch'io che non mi ricordo... Eh una scoprola... Invece anche me la sono ricordata... Dalla figura... Ma perché te ti ricordate che l'ho sentito chiamare? Sì... Ma spezzati... Eh ma l'unica volta che mi ha chiamato... Quindi è quella lì... Eh voglio dire... 2011... Agosto 2011... Sì sì sì... E te devi sapere che quando rientro... Dopo una settimana o due... Scopriamo che aspettiamo... Un bimbo... Non sapevamo se era bimbo o bimba... E... Vado da Giuse... Giuse... Io divento papà... E lui... Mi guarda... Non l'avrei mai detto... Non l'avrei mai detto... E si che... Faccio... C'è da pensare l'orologio... Da fare no? E lui... Ci pensa un po' fa... C'è da pensare a nulla... Che dici? No no... C'è da pensare a nulla... L'orologio ce l'ho io... E gli dice... Che l'orologio c'hai? E si che... Apre il cassettino... E tira fuori l'orologio... Io lo guardo... Dico... A me l'orologio non mi piace... Ma perché te è venuto in mente... Perché? Perché l'Air King Date... Non è mai stato venduto in Europa... È stato venduto solo sul mercato canadese... E anche del Nord America... In realtà... Ma comunque più che altro canadese... Perché era un orologio condattario... Quindi come il Date... Che veniva venduto qua... Ma non... Con la testa di cronometre... Quindi... Preciso... E aveva un costo più basso... E il mercato canadese... E alcuni stati del Nord America... Ambivano ad avere orologi... Un pochino meno costosi... Questo era uno di quelli... Quindi aveva... La prevalenza del mercato canadese... E aveva andato in Canada... E con l'orologio perfetto... Potrebbe essere quello... Questo peraltro ha anche un quadrante... Molto carino... Infatti a lui... Me lo sottoposi più che altro... Per il tipo di quadrante... E di che a me è questo? Questo qui ha 50 anni... Di differenza... Tra l'orologio... La mia figlia... C'è 50 anni... Che la sua figlia... La sua figlia è nata nel 2012... E l'orologio è del 62... E del 62... No è bellino... Questo qui è proprio... Io lo chiamo l'orologio saporito... Sì è bellino... C'è un quadrante favoloso... Con una grafica 369... E il Ronaldo lo sa già... Per esempio la mia bimba sa già che questo è il suo d'orologio... Sì eh... Sì sì... Perché lei è appassionata e glielo ha detto... Invece lui... Certo che devi sapere che non c'hai numeri... Cioè io col pennarello on the label ci ho scritto... 12, 3, 6 e 9... Sul vero... E come fai se no? Non trovo la mia... Esatto... Avrò cent'anni... Sono sempre chi ha venduto i orologi... Sì... La sta coltivando per poterli lasciare su... Sì... E quindi ragazzi... Io ve l'ho raccontata... Secondo me... Vabbè vuoi dire che... Tre orologi un po' particolari... E' un po' diversi... Diciamo 4 con gli GMT... Sì... Ma il GMT è più... E' visto e rivisto poi... Più scontato nel senso che è l'oro che si usa... Ma questo è come collezione sì... Sì ma... Poi le storie sono belle... Sì... Poi lui e lui sono veramente due cose... È cuore... Questo sai si vede eh... Anche se è la prima serie però questi due sono... Sì... Sì... No ma poi sai... Secondo me... Ho lì... Ho imparato tanto da Giuseppe... Cioè... Hai bisogno tante volte... Magari di vederli più di una volta... Ma quando ti entra nell'occhio a primo colpo... No... Quello... La cosa che ti innamora subito sicuramente è quella migliore... Sì... Perché ti colpisce... C'è qualcosa che ti colpisce... Magari l'invecchiamento del quadrante... La grafica del quadrante... Questo per esempio è carino col bracciale suo... Come questo che rivetti... Ma se anche per dire... La tua figlia la vorrà portare con un cinturino di pelle... Lo porta... Con uno spezzone di pelle e la sua chiusurina... No no ma... Te l'ho detto... Quello lì mi piacque subito... Allora... Sinceramente ti dico... Aveva una storia talmente ganzetta... Sì no che non potevi... Che ti piaceva... Sì no che non potevi... Saltadello... Sono orologi da testi... Beh oddio... Questo è un po' strano... Cioè... Non è che se ne vedi tanti anni... Cioè... Linea classica... Molto classica... Te sei da museo delle ciele... Sì sì... Te sei... No è bello... E poi dell'universal... UWV... Ma è chiaro... Universal... Noi avevo pochi marcati... Perché di solito... Questi non vanno mai in marchio... Perché erano orologi... E anche questo... Di quella... Levatura... Che non avevano un funzionamento... Così eccellente... Si impuntavano facilmente... Sullo scatto del terreno... Se non era ben carico l'orologio... Non saltava... Eh non ce la faceva spingere... E far saltare l'ora dopo... Quindi o la molla era sempre perfetta... O se no... Sono bella... Carina ti piace? Sì... Sì molto... È un bel orologio... Difficoltà... È la lettura dell'ora... Sì sì sì... I secondi te li immagini... Vedi il dischino che gira... Ma i secondi te li immagini... Te invece che c'hai? Questa sera... Ho un Rolex... Ovetto... Chiaramente d'oro... Piccolo lord... Solo oro... No no vabbè... Però è un bel orologio... Poi è indiscreto... Comunque non è appariscente... No... Secondo me... I pregi e difetti di collagione... Sono la misura... Per un polso piccolo... È un orologio bellissimo... Se hai il polso grande... Io no... Il polso grande è perfetto... Per te è perfetto... Infatti per te è perfetto... Uno che ha un polso... Diciamo... Tendenzialmente un po' piccolo... O medio anche... È perfetto... Poi è bella... Questa... Certo... Passare dal... Dal modello... Lungintuffatore... A questo... C'è un bel salto... Sì... Ma anche con il Moonwatch... Ma anche con il Moonwatch... Il salto l'ha fatto il Moonwatch... Vabbè... L'altro sentito... Venerdì... Disperato... Lo stiamo facendo... Ma... Le sentite... Le sentite... Le sentite delle parole... Non replicabili... Nalucca... Lui fa... Le sentite... Perché che hai fatto? Eh... Mi è caduto il vetro... Mi è caduto l'orologio... Sul vetro... Che poi... Plexi... Ma là... C'è fatto proprio la classica... C'è... C'è... Insomma... L'ho detto è bellino... È la ghiera Tundeberg... Quella particolare... Veramente... È bella... Poi con questo da cerco... In questo cinturino... Si... Ci stanno bene... Ci siamo ragazzi... È stato bravo... È approvato... Sei un buon collezionista... C'è... Tre belle storie... Direi quattro... Quindi sei comportato bene... Però ti devo... L'ultima cosa... Sì... Uno... Due... Tre... Quattro... E cinque... Perché anche te fai parte della mia storia... Te lo scordiamo... Perché... Si ma... È diverso... È diverso... Il pusher dell'orologio... È la fortuna... È una fortuna... Perché poi... Quello aiuta un sacco... Aiuta... Hai fatto a tutto... Si... No... Io posso darti la dritta... Però di più... No... La dai... Ragion veduta... No... Mirata... Sì... Ma poi... C'è la confidenza che... Non è una... No... Magari mirata... A lui... Per esempio... Darei tutte altre dritte... Ma per forza... La chichesa... No... Prince... Il Tank American... Vero... Vabbè... Che non parlare... Quindi... Gli propone mai... Un l'orologio così sportivo... No... Con un GMT... No... A te si... A te... Perché non propone... A te... Potete lavorare con due clienti... No... Siamo perfetti... Ma sarebbe qualcuno che... Paga il posto nostro... Quello è vero... Ragazzi... Grazie... Grazie a voi... Del tempo dedicato...